va bene ragazzi questa è la mia maglietta di superman guardate che è dominare i piatti ragazzi scarta la carta scarta la carta mille accendini facci sognare ciao ragazzi video di unboxing guardate c'è un sito cinese che mi ha detto scegli quello che ti pare noi te lo mandiamo gratis io potevo scegliere qualsiasi cosa ma cosa ho fatto ho scelto una bella maglietta aderente con il simbolo di superman ho preso 2xl però ho sbagliato secondo me secondo me 2xl mi sta stretto uguale con i cinesi bisogna tenersi larghi dovevo dire 4xl guardate che taglia è no ho preso 3xl guardate 3xl non mi sta bene manco la 3xl che devo fare adesso ve la faccio vedere addosso guardate che carino il materiale bella carina carina guardate fighissima bella superadente superman mettete pollici in su e vi metto il link in descrizione addosso guardate fighissima bella